Un auditorium che diventi polo strategico per lo sviluppo del turismo congressuale in città è questa la proposta che il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha lanciato durante un incontro con i vertici regionali dell'Agenzia del Demanio con al centro un piano di rilancio e rifunzionalizzazione dell'ex tabacchificio di via 25 Luglia-Rione Ferrovia. L'ipotesi di un auditorium sarà ora oggetto di un approfondimento tecnico congiunto Demanio-Dogane su uno schema di lavoro che contempla la valorizzazione ed il riuso di un'aliquota della vasta area dell'ex tabacchificio. Il sindaco in attesa del riscontro sugli aspetti di natura tecnico-procedurale ha garantito agli enti una partecipazione finanziaria del comune. Il progetto di riqualificare quell'area è un elemento di attrazione turistica utile a vivacizzare l'intera zona attiva alla stazione centrale e strategica. Valuteremo da quale linea di finanziamento attingere le risorse necessarie quando la proposta progettuale entrerà nella fase operativa, cosa che auspico avvenga in breve tempo, concluso Mastella. I consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Angelo Moretti di Civico 22, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Floriana Fioretti, Maria Letizia Varricchio del PD, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Città Aperta e Luigia Piccaluga, Centro Democratico, alla luce dell'importante riflessione avviata sul tema dell'acqua pubblica in occasione del forum di discussione del prossimo appuntamento, ma in funzione di quello che già il 17 dicembre scorso, con il dialogo ha già messo in piedi con i comitati per l'acqua pubblica Campania, hanno presentato una mozione affinché il Consiglio Comunale di Benevento impegni l'amministrazione comunale e il sindaco a sollecitare la regione Campania affinché provveda alla Costituzione di una società a totale partecipazione pubblica per la gestione della grande adduzione primaria regionale. Indagato per violenza sessuale in concorso dalla procura di Benevento, il vice procuratore onorario presso il Tribunale di Lecce, Antonio Zito, 57enne, dallo stesso reato in questa inchiesta e accusato anche un medico in servizio presso l'ospedale di Benevento. Queste nuove contestazioni sono emerse durante l'ascolto di alcune intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta della procura di potenza dove Zito è indagato insieme ad altre sei persone per presunte inchieste manipolate e archiviate in cambio di denaro. Le accuse nei loro confronti per l'inchiesta principale sono corruzione per esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari, induzione in debita e concussione. La procura di Benevento sta indagando per alcuni episodi ricommessi all'interno di un ambulatorio di cardiologia di un ospedale del capoluogo Sanita. Secondo l'accusa, Zito si sarebbe presentato come cardiologo durante le visite a dignare pazienti effettuate da un altro medico ed in questa occasione avrebbe commesso alcuni atti sessuali nei confronti delle donne con la complicità dell'altro indagato. Un 24enne di Benevento è agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su un 13enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la nonna del ragazzo minore accorgendosi della gravità della situazione ha denunciato il 24enne alla polizia. Gli agenti hanno avviato le indagini per appurare la verità dei fatti e ricostruire le vicende dell'accaduto. All'esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i carabinieri di Amorosi, unitamente al nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Ceredo Sanita, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa su richiesta della Procura della Repubblica, dal GIP presso il Tribunale di Benevento nei confronti di due soggetti, a conclusione di indagini svolti in relazione ai plurimi episodi di spendita di banconote falsificate, nonché di ulteriori episodi di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L'attività investigativa è stata svolta dai carabinieri di Cautano, Amorosi, Morcone, Sant'Agata dei Gotici, Areto Sanita, Teleseterme, Dugenta, Solopaca e Ruviano. Tutti comuni interessati da singoli episodi, verificatosi nell'arco temporale tra il maggio 2022 e maggio 2023, ai danni di ben 23 vittime e si è articolata in acquisizione di filmati di videosorveglianza pubblica e privata, sequestro e acquisizione delle banconote false e relativa verifica tramite carabinieri antisofisticazione di Napoli. La Corte di Appello di Napoli, accogliendo la tesi dell'Avvocato Vittorio Fucci Jr., ha assolto annunziata Floriano, 34 anni e Maria Grazia Servodio, 62 anni e entrambe di Arpaia, dai reati di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare la Floriano, la Servodio, madre e figlia erano state ritenute responsabili dal Tribunale di Benevento di Resistenza ai Carabinieri, intervenuti in occasione di una lite tra le due donne e altre persone che furono anche ingiuriate. I fatti si sarebbero verificati nel 2017 ad Arpaia. La Corte d'Appello però, come detto, ha riformato la sentenza del Tribunale di Benevento e ha assolto le due donne. È preoccupante la situazione che si è venuta a creare per le discutibili scelte effettuate dall'Asda di Benevento relativamente al Servizio di Emergenza Territoriale 118. Il contingente medico ha sottisiatosi nel tempo a causa di decessi, pensionamenti, inidoneità assolute relative, fa segnare attualmente una carenza di 20 unità rispetto ad un organico totale definitivo di 78 medici impiegati per i servizi di assistenza ed urgenza territoriali, servizi di assistenza ed urgenza territoriale potenziati e centrale operativa. Lo dichiara in una nota congiunta il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, assieme alla consigliera Carmela Rescigno, componente della Quinta Commissione Sanità e Sicurezza Sociale. Presso la sede del Partito Democratico si è svolto un incontro di notevole rilevanza tra i dirigenti del Partito Democratico Sanite e i rappresentanti del gruppo Pi Europa Benevento, di ramazione provinciale del partito fondato da Emma Bonino. L'obiettivo prioritario dell'incontro era vagliare i presupposti di una collaborazione politico-programmatica che, partendo da un'attenta analisi del territorio, possa organizzare una competitiva proposta aggregante nelle prossime sfide amministrative. L'incontro si è concluso con l'impegno di dare subito in maniera concreta ad un percorso di collaborazione tra il PD e il gruppo Pi Europa Benevento, con il fattivo supporto e coinvolgimento di una classe di giovani e promettenti dirigenti locali in entrambi gli schieramenti. Ennesimo incidente stradale tra una Fiat Panda e un Renault Clio lungo la strada Stalla del 7 Appia, incontrata a Piano Cappelle. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Municipale, composta dal tenente Vecchio, dal maresciallo Fusco e dagli agenti Basile e Iannone, e quattro ambulanze per il trasporto in ospedale di tre feriti, dei quali uno in codice rosso. Da una prima ricostruzione, il conducente dell'Areno Clio, mentre svoltava a sinistra in direzione Benevento, è stata tamponata da una Fiat Panda che procedeva verso San Giorgio. La Polizia Municipale ha proceduto al sequestro della Fiat Panda perché priva di assicurazione, combinato anche la sanzione per guida senza cintura di sicurezza allacciata e sottrazione di 20 punti su 20 della patente di guida, poiché la stessa ragazza era neopatentata. Presenti anche i due automezzi dei Vigili del Fuco, si è in attesa dei referti medici per stabilire se dovranno essere assunti altri provvedimenti anche di carattere penale. Il consigliere comunale di Panarano Giovanni Cavaiolo, a seguito di un colloquio con il segretario nazionale Clemente Mastella, annuncia l'adesione a noi di centro. Il sindaco di Benevento e il segretario nazionale Mastella è il riferimento più affidabile e brillante nel panorama politico. Il suo progetto radicato sul territorio e proiettato verso scenari importanti resta il miglior approdo per amministratori di aria moderata, ha concluso Cavaiolo. Le reliquie di San Giovanni e Remita di recente proclamato patrono della Valla del Fortore faranno tappa a Benevento dall'11 al 13 settembre. L'11 alle ore 19.30 è previsto l'arrivo in cattedrale del Busto con le sacre reliquie di San Giovanni e Remita e il rito di accoglienza. Il 12 settembre alle ore 7 apertura della cattedrale, poi la celebrazione dei sante messe. alle 20.30 veglia di preghiera preseduta da Monsignor Francesco Iempietro, vicario della diocesi di Benevento. Alle ore 7 sempre della giornata del 13, apertura della cattedrale, sante messe alle 7.30 alle 9 alle 17 con celebrazione eucaristica con i sacerdoti del capologo Sannita preseduta da Monsignor Felici a Crocca, arcivesco di Benevento. Alle ore 18 e rito del saluto. L'Istituto Bosco Lucarelli Industriale di Benevento ha ospitato la presentazione del libro Riscoprire il fuoco di Alberto Barlocci. TV7 ha seguito l'evento ascoltando le dichiarazioni della professoressa Rossella Matrangolo. Allora, questa iniziativa nasce come tante cose nella vita, cioè da un'esperienza fatta, poi nascono nuove ispirazioni, nuove idee e tu ti lasci condurre da queste idee dove ti conducono. Era il periodo della pandemia, quindi durante il lockdown, eravamo tutti un po' isolati, in spazi piuttosto angusti, però avevamo voglia anche di immaginare, ma soprattutto come docente mi sono chiesta, ma queste piattaforme digitali, perché eravamo tutti presi dalla DAD, da questa didattica a distanza, eravamo anche un po' costretti ad imparare a usare queste tecnologie, le possiamo usare in maniera per costruire, per accompagnare i nostri studenti in questo periodo anomalo, in fondo, perché erano comunque giorni surreali quelli della pandemia. E nello stesso tempo avevo ritrovato in una chat molto grande di amici con cui abbiamo condiviso importanti esperienze giovanili, questo amico che adesso vive in Cile, che è professore giornalista, esperto di politica internazionale, ma anche professore docente di diritto e di etica. E ci siamo proprio detti, ma vogliamo inventarci qualcosa per accompagnare questi studenti. E quindi cominciò semplicemente con un appuntamento sulle fake news, perché chi meglio di lui poteva aiutare i studenti proprio ad approcciare criticamente questo flusso di notizie che arrivava sui social. E quindi il ruolo dei media, e con lui si collegò, ovviamente dopo aver sentito la preside e le colleghe, con 160 studenti dell'Iti Lucarelli, online dal Cile, e una ventina di docenti, e parlammo, discutemmo, lucidete, questi spunti di riflessioni sul ruolo dei media, sulle fake news. Poi, essendo giornalista, essendo un buon napoletano, quindi il tutto è stato visto molto frizzante, anche dall'ironia e dalla sua capacità di comunicare. E da lì poi siamo piano piano, la cosa ha preso piede, abbiamo fatto queste sette conversazioni, a partire da settembre, sui temi sensibili della cittadinanza attiva. Quindi dalla globalizzazione, dalla crisi afogana del 2021, passando per la globalizzazione, per i cambiamenti climatici e la sostenibilità, siamo poi approdate letteralmente sull'altro lato della luna, che è l'espressione con cui viene definita l'economia civile, che è quell'economia che ci svela una dimensione più umana dell'economia stessa e della vita sociale. A un certo punto, una mattina, la collega mi ha detto, vogliamo farne un libro? E sembrava un progetto ambizioso, ma le cose si sono messe in maniera tale che questo progetto ambizioso è diventato realtà. Ed ecco riscoprire il fuoco, che è una lettura del mondo attuale con le sue problematiche, nella prospettiva della fraternità. Il direttore tecnico del Benevento Calcio, Marcello Carli, incontrerà i giornalisti presso la sala stampa dello stadio Ciro Vigorito alle ore 17.30 di venerdì 8 settembre. Carli parlerà certamente dei due nuovi colpi di mercato del Benevento Calcio, Terranova ex Regina e dell'ex Ciciretti, due operazioni necessarie dopo gli infortuni di Ciano e Meccarillo. Il Benevento Calcio ha comunicato che a partire dalle ore 15 del 7 settembre fino alle 21.30 dell'11 settembre saranno disponibili sulla piattaforma TicketOne al link sport.ticketone.it e nelle ricevitorie autorizzate, tagliandi validi per la partita Benevento Virtus Francavilla in programma alle ore 20.45 lunedì 11 settembre. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito web www.tv7.net. I botteghini dello stadio Ciro Vigorito resteranno aperti al pubblico anche nei giorni di sabato 9 e domenica 10 settembre rispettando i consueti orari dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 per consentire anche il proseguo della vendita degli abbonamenti per la stagione sportiva 2023-2024. Si ricorda che il giorno della gara 11 settembre i botteghini dello stadio resteranno chiusi. E' tutto con questa notizia e vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.